Torna il prossimo fine settimana a Menfi, in Icon, la festa del vino. Da venerdì 23 a domenica 25 le strade e i cortili del comune Bellicino ospiteranno la 22esima edizione della manifestazione. Manifestazione che vede diversi appuntamenti, tra questi anche incontri e dibattiti letterari. Casa Planeta ospiterà a partire dalle 19 per tre giorni tre dialoghi del vino, con la presentazione di tre diversi autori. Si tratta di Toni Capozzo e del suo Il Segreto dei Marò. Sabato sarà la volta di Daniela Spada e Cesare Bocci con il libro Il Pesce d'Aprile, mentre domenica Antonella Boralevi presenterà Bayron, storia del cane che mi ha insegnato la serenità. Ogni giorno, suddivisi in due turni diversi, spazio all'interno dei cortili storici e diverse iniziative, come le degustazioni tecniche dei vini della strada, del vino delle terresi cane e diversi wine testing. In piazza Vittorio Emanuele, a partire dalle 20 e 30 ogni sera, spazio ai laboratori del gusto, show cooking condotti da tinto, durante i quali i chef del territorio saranno chiamati a creare il connubio tra sapori e un vino del posto. Dopo le 23, terminati gli show cooking, spazio in piazza agli spettacoli. Venerdì ci sarà John Peter Sloan e il suo culture show. Sabato la musica dei Sud Sound System, mentre domenica 25 chiuderà Inicon lo spettacolo Dream, sogno di una notte d'estate, prodotto da My Moon. Insomma, anche per la 22esima edizione, la festa del vino di Menfi, cerca di mettere insieme eventi e momenti culturali, insieme a quello che da sempre rimane il filo conduttore della manifestazione, ossia il vino coniugato all'eccellenza del territorio belicino. Inicon è inserita nella shortlist degli eventi ad alta rilevanza turistica della Sicilia e ben organizzato dal comune da Cantine a Sette Soli e quest'anno ha come partner il distretto del vino e dei sapori di Sicilia e Slow Food. Una festa dunque che sulla scia delle sue 22 edizioni punta ad essere sempre più una vetrina per le eccellenze locali e per i suoi produttori. L'appuntamento è a Menfi tra le sue strade e i suoi cortili da venerdì a domenica prossimi. Grazie. 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 Grazie.